Vertice di maggioranza via Skype tra il sindaco di Avellino e di consiglieri per affrontare le principali questioni amministrative legate all'emergenza. Un lungo confronto al termine del quale i consiglieri hanno condiviso la definizione della squadra di esperti alla quale oltre a Gianluca Basile, Francesco Sellitto e Maurizio Oliviero si aggiunge Gerardo Capozza, già capo del cerimoniale del Consiglio dei Ministri e sindaco di Morra De Sanctis, attuale consigliere del Premier Conte per il Mezzogiorno, segretario generale del dell'ACI. Mancano altri due profili. L'incontro di maggioranza è servito a definire le proposte che saranno trasmesse al Governatore De Luca. Trasporti, scuola, commercio, opere pubblica e sicurezza sono i cinque punti sui quali si baserà il documento. Sulla questione delle mascherine da distribuire alla popolazione alla manifestazione di interesse aperta dal Comune di Avellino hanno risposto otto operatori, quattro dei quali hanno i requisiti, a cominciare da quello più importante, figurano nell'elenco stilato dal Ministero della Salute. Nelle prossime ore quattro operatori dovranno produrre l'offerta per rispondere alla richiesta del Comune di Avellino. 55 mascherine, lavabili, riutilizzabili e con marchio CE. Ad un tavolo virtuale il sindaco ha discusso anche con i sindacati, la Camera di Commercio e il lance per affrontare la questione relativa ai bonus spese agli aiuti economici da erogare alle famiglie maggiormente in difficoltà per pagamento di fitti, bolletti, acquisti di beni di prima necessità. Bisogna stabilire come investire al meglio i fondi statali, regionali e comunali reperiti attraverso il piano di zona.